Terra Amara, spoiler dalla Turchia, Muigan l'incontro tra Yilmaz e Zuleyya. A Terra Amara le sorprese non finiscono mai e nelle prossime puntate i protagonisti saranno al centro di una vicenda che avrà delle spiacevoli conseguenze. L'omicidio di Erkument da parte di Yilmaz verrà a gala e questo spingerà Zuleyya ad incontrare il suo amato. Ma Muigan sarà pronta a registrare l'incontro e questo potrebbe cambiare per sempre la vita della sua rivale. Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia raccontano che presto a Yulide arriverà una lettera anonima in cui si accusa Demir per l'omicidio di Erkument e per questo motivo la polizia si reccherà a casa Yaman per una testimonianza. Demir racconterà a sua madre quanto è accaduto e con lei si domanderà chi possa essere l'autore dell'ingiusta accusa, mentre l'uomo sarà convinto che sia opera di Sermin. Uncar penserà che ci sia lo zampino di Beice. Madre e figlio continueranno a parlare ignorando che Zuleyya stia ascoltando la conversazione e sarà così che la donna scoprirà che Yilmaz è il vero assassino di Erkument. Se il pubblico ministero insiste, sarà costretto a dire la verità, affermerà Demir, e Zuleyya temerà per il suo amato. Nelle prossime puntate Zuleyya verrà a sapere che Yilmaz ha ucciso Erkument si darà da fare per contattare Yilmaz e dirgli che la sua libertà è in pericolo. L'uomo mentirà a sua moglie e incontrerà la sua amata in un capanno per parlare bene della situazione che lo vede coinvolto. Muigan fingerà di credere alla bugia di Yilmaz, ma avendo ascoltato la telefonata si reccherà all'appuntamento tra suo marito e Zuleyya per registrare l'incontro. In modo da poter provare che la gelosia è motivata e non è un'ossessione. Yilmaz spiegherà alla sua ex fidanzata che Erkument aveva abusato di Gülten e Zuleyya scoppierà in lacrime, temendo per il futuro del suo amato. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Muigan registrerà tutto dalla finestra e riprenderà l'abbraccio tra Yilmaz e Zuleyya. Anche per provare di non essere pazza dubitando della fedeltà di suo marito. Questo provocherà delle conseguenze molto gravi, perché presto Muigan mostrerà il nastro a Demir che sarà fuori di sé nel vedere sua moglie con Yilmaz e pensando che i due siano amanti aggredirà sua moglie e la lascerà ferita nel bosco. Quando la donna tornerà sanguinante alla tenuta, la cacerà dalla villa, impedendole di vedere suo figlio e ordinando ai suoi dipendenti di comportarsi come se fosse morta. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul e moda ONU. Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, record și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un niscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor. Că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau și-o scarul mare.